Sto registrata. Ok. Allora. Lo diciamo subito? Ebbene sì, siamo entrati nel canale di questo youtuber che si chiama MarkRFims. Ora è tutto nostro. Sì, perché non ci andava di crearlo e partire da zero. Sì. Vogliamo la vita facile, senza alcuna difficoltà. Lasciatela perdere, stiamo scherzando. Dai su, mostriamo il nostro primo tutorial. Oggi impareremo a truccarci l'occhio. Ma quello è il mio canale. E da quando mi occupo di trucco? Ops. Merda! Ci conviene con me. Cavolo, ce la siamo vista brutta. E poi mi chiedo, com'è fatto a sapere che eravamo entrati? Controllo accesso. E com'è fatto a sapere che eravamo qui? Sistemi di localizzazione. Sapete? Quelli presenti nel vostro smartphone. Perchè devo apparire così? Avvio agli amici tutti! No, no, tutorial di trucco sul mio canale, no, no! Ebbene sì, siamo entrati nel canale di quest'utente YouTube, che si chiama Marker Films. Ebbene sì, siamo entrati nel canale di questo YouTube. Aspetta, ora è tutto nostro. Oggi impareremo a truccarci l'occhio. Ops. Ci conviene correre. E' la nostra prima volta, devi compiattirci. Ops. No, togli con le mani. Sto facendo così. Mi sto vivendo questa. No, 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 no. Perchè devo apparire così cattivo agli occhi di tutti? Non so perchè un cattivo si mette il capo. Perchè devo apparire così cattivo agli occhi di tutti? No, rifalla. Cazzito! Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale qui sotto. E visitate anche il canale ufficiale R.P. Games Production. R.P. Games Production. Ciao!